Copia in colla poter replicare? La Puglia è un doppio modello, sia dal punto di vista della pianificazione urbanistica perché è la prima regione che ha approvato il piano paesaggistico che è la carta che vincola salvaguardia il paesaggio e il territorio è l'unica regione, in arrivo anche la Toscana il prossimo 17 marzo approverà il suo piano, le altre regioni sono in ritardo quindi buona, ottima pianificazione urbanistica ed è la prima regola di contrasto al dissesto colposo, doloso, il dissesto idrogeologico che produce danni, vittime e sconquassa il territorio Il secondo poterlo è per la quantità di opere che sono state avviate a cantiere e concluse quasi 600 milioni spesi negli ultimi anni si vedono nelle realtà dove sono state realizzate le opere e si vedranno nella maggiore sicurezza della Puglia, di tanti pugliesi noi siamo un paese che deve uscire un po' dall'incubo, alluvione, frana e finalmente entriamo nella fase della pianificazione e della prevenzione non inseguiamo più semplicemente le emergenze non facciamo più i notai delle emergenze come è accaduto finora ma entriamo in una nuova stagione di questa nuova stagione la Puglia è un po' il simbolo di cosa bisogna fare grazie